Sono insieme a Francesca da tre mesi e ci siamo conosciuti su internet tramite una chat. Ho conosciuto Cristina in un bar, ci hanno iniziato a vedere come amici, però abbiamo capito da entrambi che non era soltanto un'amicizia. Ho deciso di fare questa pazienza e di sposarla. Una cosa che mi dice sempre lei è che sono freddo, quasi come un ghiacciolo, però lentamente sono in grado di sciogliermi anch'io. Questo per me è un momento importantissimo, sono agitatissimo. Ciao, anche tu qui? Sei agitata? Sì. Per così poco? Per così poco? Com'è sei qua? Era per dirti che sono pazzo di te e ho organizzato tutta questa cosa per questo. Ti volevo dire semplicemente che tu per me sei davvero tutto, però c'è una cosa che non sei ancora.